Non puoi farlo perché prendi la multa e la paghi E allora togliti dal cazzo Lasciamo fare la forza dell'ordine, basta che venne andati Siamo qua oggi per chiedere un fondo di riparazione di 20 miliardi Per tutti noi cittadini e cittadini Che servano tutti la situazione in cui ci troviamo Lo sappiamo tutti quanto siamo vulnerabili Lo sentiamo nelle ossa quanta paura abbiamo Io lo so che lo sentite anche voi Dobbiamo fare qualcosa E tutti voi poste con voi e adesso ci dovrebbero ascoltare E dovrebbero ascoltare E dovrebbero ascoltare Ho capito ma cosa devo fare? Ho capito ma cosa devo fare? No, dicono che possiamo le farci adesso Ed è un fondo Adesso viene la pagina Sì, dove lo vado a fare? Sì, dove lo vado a fare? Sì, dove lo vado a fare? Non è che il gatto c'è? Grande nonno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.